Siamo stati insieme? Sì. Eravamo a Siracusa giocattato se non sbaglio con Duele. Sì. Vero? Ci siamo anche divertiti. Invece questa sera ti esibirai con una canzone che canterai interamente tu. Cosa offrirai al pubblico di Piazza e Palestro? Un anno più bello. Perfetto! Per voi Pietro Mauro! Siamo stati insieme. Siamo stati insieme. Siamo stati insieme. Siamo stati insieme.